Un breve filmato di benvenuto da proiettare il giorno prima dell'attracco per informare i passeggeri sull'offerta turistico-culturale di Messina e provincia. E' questa l'ultima strategia di marketing dell'autorità portuale nell'ambito delle diverse azioni di promozione sviluppate per incrementare la presenza croceristica nei due porti di competenza, Messina e Milazzo. L'ente ha voluto soddisfare la richiesta di alcuni armatori ed ha affidato la realizzazione ad ad immagine ed associati. I due porti appaiono in video quali accessi privilegiati ad un territorio ricco di meraviglie da scoprire e da assaporare, immagini suggestive dei principali monumenti, delle bellezze naturalistiche e culturali, delle attività a cui dedicarsi durante le ore di sosta della nave, dei luoghi da visitare in escursione e delle immancabili tipicità enogastronomiche. Il video sarà inviato a tutte le compagnie croceristiche ed utilizzato da lente anche in occasioni di fiere di settore o di incontri B2B per confermare l'appeal della destinazione. L'obiettivo del prodotto, si legge nella nota che accompagna il link al video, pur nel rispetto della sintesi richiesta dalle compagnie, è quello di presentare al meglio le nostre ricchezze e suscitare un'emozione positiva sul territorio e sulle due città di approdo. Un'iniziativa promozionale non di poco conto se si pensa che, secondo quanto dichiarato dalla stessa autorità portuale, il flusso di croceristi per l'anno in corso sarà di circa 361.000 persone con la presenza di 164 navi, fra le quali le imponenti MSC CVU con 5.000 passeggeri attoccata o la Carnival Horizon, 4.000 passeggeri, con la quale la compagnia americana ritorna nel Mediterraneo e sceglie per due scali lo stretto.